Chi invece i playoff li deve completare perché si gioca la promozione in prima divisione ed è il tecnico del Monza, Tonino Asa, che abbiamo in collegamento dai nostri studi di Milano. Buonasera mister. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Lei non può essere rilassato come Massimo Rastelli a Roma, eh? Ha detto bene Massimo, fortunatamente ha vinto, ma non fortunatamente, meritatamente e quindi adesso si godrà vedendo un po' le partite. Invece noi ci giocheremo questa finale consapevoli che anche noi sul campo avevamo ottenuto un risultato pieno quindi la vittoria di questo campionato. Però adesso conta veramente questa finale con Venezia e ci giocheremo tutto quanto in queste due gare. Comunque una soddisfazione immensa per voi, il vostro campionato non era facile, non è stato facile per i problemi societari, per i punti di penalizzazione all'inizio della stagione, per cui siete stati bravissimi. Sì, sono due le situazioni in questi momenti, o ti fortifichi come squadra e quindi vai avanti o se no molli. Credo che i ragazzi, soprattutto il merito loro, non hanno mollato, hanno capito che comunque avevamo una squadra giovane e si giocavano tante opportunità anche per il loro futuro e l'hanno dimostrato a pieno, sono soddisfatto e contento. Però, come ho detto prima, ancora non abbiamo finito, avremo queste due partite difficilissime però l'affronteremo con lo spirito giusto, quello che sempre in campionata abbiamo dato cercando di divertirci principalmente, ma in questo momento, in queste due gare veramente affronteremo una squadra importante come il Venezia. Sarà dura per noi, ma spero, mi auguro anche per loro. Purtroppo la fotografia è nata soprattutto di un anno, il 2013, dove mi sembra successo. Siamo stati penalizzati da traverse, da sbagliati nostri. Per carità, questa volta siamo retrocessi grazie a un guardaline o un assistente, come vogliono essere chiamati, perché a me sta bene che un assistente di a rigore contro di noi, SCP, assume la responsabilità, ma negli ultimi dieci minuti deve assumersi la responsabilità di fischiare dei rigori a nostro favore su Torri e Cristini, che in due circostanze sono state affossate davanti ai suoi occhi, erano l'ultimo uomo e sono stati tirati per la maglia e affossati. Per me il rigore poteva starci nettamente per la dinamica, il giocatore della Reggiana era nettamente davanti, ha fatto un po' di rumore perché l'arbitro ha cambiato decisione, quindi non si vede spesso, però guardaline che era in posizione perfetta e è stato bravissimo per noi a cambiare decisione, è stato l'episodio fondamentale. Abbiamo lasciato l'intervista di Ezio Rossi, anche se avete sentito l'audio, non era perfetto, però c'era una recriminazione importante, allora non lo chiedo a Mario Facco perché va sui campi. Ho un parere sempre mio per quanto riguarda soprattutto il Lega Pro, dove non ci sono gli arbitri di porta, perché bisogna una volta per tutte capire quando l'assistente può veramente decidere o meno. Io ho tante partite, è successo che l'assistente ha visto e non ha segnalato all'arbitro, invece in questo caso è stato fatto. Io credo che anche sotto questo aspetto bisognerà un po' discuterne perché si parla sempre di dialogo, si parla di un assistente che può avere tra virgolette dei poteri, però in quel caso devi essere sicuro al 100% di aver visto il rigore. Quindi a me è a monte che bisognerebbe anche rivedere determinate cose. Se diamo forza anche giustamente all'assistente che può dare una mano, ben venga, però in tutte le circostanze non solo quando vuole lui o meno, questo è il mio parere. Lì il contatto è difficile da decifrarlo, sinceramente. Sono d'accordo, però in quel caso l'assistente può intervenire se l'abito non è posizionato bene, nel senso se l'abito non vede mi sembra invece che l'abito fosse nella posizione migliore o almeno come quella del... E ora passiamo a parlare del Monza. Monza che ha raggiunto i play-off. Prima di commentare proprio quanto è successo con il tecnico a Asta, andiamo a vedere Bassano-Monza. Capolavoro Monza, la squadra di Antonino Asta si è imposta 2-1 sul campo del Bassano ottenendo con merito la qualificazione alla finale play-off per la promozione in prima divisione. L'avversaria sarà il Venezia di Mister Sottili che ha eliminato il Renate. Per il Monza si è trattato della quarta vittoria consecutiva e della prima in trasferta davanti ad una folta rappresentanza di tifosi biancorossi. Erano circa 250 ai piedi del Monte Grappa per sostenere la squadra Brianzola. Nonostante le assenze di Puccio, che ha scontato l'ultima delle quattro giornate di squalifica di Miello, Polenghi e Cagliari, infortunati l'undici biancorosso ha fornito una prova di carattere che ha raccolto i suoi frutti soltanto nella ripresa nel quarto dura finale quando De Cenco ha sbloccato il risultato avventandosi sulla respinta del palo dopo la conclusione di uno scatenato Gasbarroni e quando Vita allo scadere ha messo dentro la palla del raddoppio. Soltanto in pieno recupero, la rete inutile del Bassano con Mateos bravo a sfruttare un calcio di punizione di Correa. Troppo tardi il Monza è arrivato all'appuntamento che conta nella condizione giusta e ora il sogno, prima divisione, è davvero ad un passo. Mister Asta, il sogno è ad un passo? Sì, diciamo di sì, ci mancherebbe, però stessa cosa penserà il Venezia e quindi sappiamo che abbiamo un ostacolo, come dicevo prima, veramente difficile, arduo, contro una squadra che ha anche nel loro fira giocatori importanti e quindi noi ci proveremo come sempre, come credo tutte le squadre fanno quando arrivano a questo punto. Però voglio veramente, insomma, citare veramente i ragazzi che hanno fatto veramente di nuovo un'altra prestazione eccezionale fatta di cuore ma anche di coraggio perché non siamo andati lì a difenderci sapendo che con un solo risultato negativo rischiavamo di non arrivare in finale. E quindi anche i tifosi sono stati eccezionali, sono stati bravi a fare, tra virgolette così, risvegliare una piazza che purtroppo negli ultimi tempi, negli ultimi anni, per tanti motivi e per altre problematiche, insomma, non venivano più allo stadio. Quindi questo da parte mia e anche da parte dei ragazzi è stato veramente una vittoria maggiore riportare l'entusiasmo a Monza che da tanto tempo non si vedeva questo. E il nuovo presidente? Perché anche lui ieri ha usato Facebook per farvi complimenti, questa nuova società sta riportando entusiasmo? Spero, mi auguro, credo di sì, credo di sì. Nel senso, noi l'abbiamo visto appena una volta, è un imprenditore in giro per tutto il mondo quindi in questo momento sappiamo che ha delle idee chiare, vuole riportare veramente questa società, questa città ai fasti che era di una volta, quindi quando occupava stabilmente la cadetteria, quindi la serie B e quindi speriamo che questo possa accadere ma sempre con un progetto importante dove a mio avviso lo si può fare mantenendo un organico del genere, rafforzandoci. Però detto tutto questo dobbiamo ancora prima pensare alla partita del Venezia contro il Venezia perché sarà veramente difficilissimo. Mario Facco, una domanda per lei? Ma io volevo fare i complimenti a Tonino Asta perché appunto lui ha detto bene, parlando prima dell'Avellino abbiamo detto che è sicuramente una città che ti dà motivazioni, ma credo che non sia facile fare calcio a Monza, una città praticamente, io sono di Milano, so che Monza praticamente è Milano, perciò fare calcio quando hai vicino due squadre come Milan e Inter e dare motivazione ai tifosi, ai tuoi giocatori, credo che veramente sia un fatto da sottolineare. Da qui vengono i miei complimenti per Tonino per il suo campionato, poi c'è ancora le partite da fare, però ho voluto appunto manifestare la mia voglia di fare le congratulazioni. Ecco allora, mentre parliamo proprio con il tecnico Asta, andiamo a vedere il gol con il quale il Venezia che ha giocato sabato, si è aggiudicato a questa finale, il gol di Cenetti è arrivato proprio al settimo minuto. E voglio chiedere a Tonino Asta, come va affrontato questo Venezia? Ne avete già parlato? Sì, perché noi allenatori subito dopo la partita pensiamo già a quella successiva e quindi quindi sì, già li conosciamo abbastanza perché ci siamo affrontati sia l'andata che ritorno, quindi ci conosciamo entrambi, anche loro conoscono noi e viceversa. È una squadra come dicevo prima di giocatori di esperienza, Godias su tutti, è un giocatore straordinario, anche con l'età, sta facendo grandissime cose, grandi gol e anche altri giocatori. Quindi quello che cercheremo di fare noi, come al solito, è la partita. In che modo? Noi cerchiamo di essere molto aggressivi, cerchiamo di tenere il ritmo alto, questo grazie anche ai giocatori che ho a disposizione, dei giovani, come dicevo prima, che possono essere l'arma vincente perché quella freschezza in questo momento e brillantezza, insomma, mi avviso, conta tantissimo e cercheremo forse di affrontarla in quella maniera. Mi fermo qui perché se no darei tanti vantaggi al mio collega Sottili e quindi va bene per ora. Troppi, eh? Che finale ci aspetta tra Monzo e Venezia e Massimo Rastelli? Sicuramente due squadre di qualità che si sono guadagnate questa finale con grandissimo merito e quindi credo che alla fine, come sempre, posso solo che fare l'in bocca al lupo a tutti e vinca, vinca il lupo. E noi siamo ai saluti, io saluto subito il tecnico del Monza, Tonino Asta e in questi casi cosa si fa? L'in bocca al lupo, mister? Sì, sì, grazie, crepi il lupo. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Grazie, grazie a lei per aver accettato.